La figura del compianto Nonevore Luigi Granata è stata ricordata sabato scorso ad Agrigento, nel corso di un incontro all'ex Collegio dei Filippini. Una sala colma di gente ha voluto rendere omaggio al tre volte deputato regionale del PSI, scomparso lo scorso 25 febbraio. In prima fila la moglie Franca e i figli Diego e Luisa. Diversi gli esponenti politici attuali e passati e presenti, anche di fazioni opposte al partito del Garofano. Al tavolo dei relatori il sindaco di Agrigento Marco Zambuto e gli onorevoli socialisti, salvo ando attuale rettore dell'Università Core di Enna, Giovanni Palillo e Gaspare Saladino. Diversi gli interventi che hanno evidenziato sia le doti politiche che umanitarie dell'onorevole Granata. Nome quest'ultimo, che associato a quello dell'onorevole Filippo Lendini, hanno fatto certamente la storia del socialismo in Sicilia nel XX secolo.